Musica Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale in apertura ai dati sul covid 29, nuovi contagi, nessun decesso e 21 guariti, cala il tasso di positività al 3,89%, intanto prosegue la campagna vaccinale, in 24 ore somministrate 2.500 dosi di vaccino, sentiamo. 29 nuovi positivi su 745, tamponi rifertati, nessun decesso e 21 guariti, due ricoveri in malattie infettive al Cardarelli ma anche altrettanti dimessi dal reparto, un trasferimento in terapia intensiva, questo è il quadro che emerge dall'ultimo bollettino diffuso dall'ASREM sulla situazione covid in Molise. A Campobasso è il numero più alto di contagi nelle ultime ore, 13 a fronte anche di 7 guarigioni. Ancora 3 casi di coronavirus a Boiano e 2, soprattutto un caso, negli altri comuni interessati. Gli attualmente positivi in Molise sono 664, il tasso di positività cala al 3,89%. Stabili le ospedalizzazioni, in sostanza in totale 54, di cui 50 al Cardarelli con 10 pazienti in terapia intensiva e 40 in malattie infettive, due ricoverati al Gemelli Molise e due al Neuromed. Sono 467 le vittime dall'inizio della pandemia nella nostra regione. Intanto, sul fronte vaccini somministrato il 92,1% delle dosi consegnate, che sono oltre 116 mila. Ne sono state somministrate, come fa sapere l'ASREM, 106.872. Nelle ultime 24 ore, 2.534. Intanto, sul fronte, vaccinazioni continuano ad arrivarci chiamate di persone anziane, che chiamano ovviamente in redazione, anche ultranovantenni, che sono costretti a casa e ancora non ricevono la somministrazione, nonostante siano registrati da febbraio sulla piattaforma, come persone che non possono recarsi ai centri vaccinali e dunque hanno bisogno della vaccinazione a domicilio. Chiedono di sapere quando saranno vaccinate queste persone e il perché dei ritardi. Si tratta di persone anziane che sono a casa, anche ultranovantenni. Parliamo adesso delle riaperture previste lunedì per le regioni in zona gialla, tra le quali c'è pure il Molise. Riapriranno ristoranti e bar, ma solo all'aperto. Cinema, teatri e scuola. Anna Maria Di Matteo è andata a sentire le opinioni della gente e vedere qual è la situazione a Campobasso. Lunedì 26 aprile, una data che rappresenta per molti, ma non per tutti, un timido segnale di ripresa e di speranza dopo mesi di buio totale. Le regioni in zona gialla, tra le quali c'è pure il Molise, si preparano alla ripartenza, seppure tra mille difficoltà e non poche polemiche. Riapriranno cinema, teatri, con limitazioni nel numero dei posti, scuole, ristoranti e bar, ma solo all'aperto. Un provvedimento accolto favorevolmente dalla gente che ha tanta voglia di tornare alla normalità, pur sapendo che la battaglia contro il virus non è finita e che dunque bisognerà continuare a mantenere alta la guardia, ora più che mai, per non vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi, perché passare dal giallo all'arancione o peggio ancora al rosso è un attimo. Dovete fare acquisti? Cerchiamo di fare quali, ma non ci serve niente. Niente proprio? Niente, ci serve soltanto mangiare e riposare. Gli anziani così li vogliono fare, non è che fanno. Sentite, ma voi siete d'accordo sul fatto che lunedì si comincia a riaprire un po' tutto? Io ero d'avviso che non dovevano chiudere per niente. Le mascherine, la distanza sì, ma chiudere no, perché la nazione va in brutte acque. Sapete che significa una persona che ha un'attività impropria e che non ha più ingasso, deve pagare tutto? No, per me vanno bene. Anche se lunedì riapriranno bar e ristoranti solo all'aperto, quindi quelli che non hanno la possibilità? Per me è sbagliato, perché il virus può entrare se dentro che fuori. Lei andrà al bar a fare colazione? No, ogni tanto tempo il caffè lo prendo, colazione no, colazione siamo abituati a fare la casa. Siete contenta che si possa cominciare a riaprire? Contentissima, sì, sì. Per le persone che devono aprire le attività, ecco. Senta, lei ha fatto il vaccino? Sì. Tutte e due le dosi? Tutte e due. Ecco, secondo mi sono sentita pure un po' maluccio. Quindi si sente anche un po' più tranquilla? Sì, sono tranquilla, sì, sì. Andrà al ristorante o al bar la mattina a fare colazione? Più al bar. Da lunedì si può andare, è vero? Quindi è contenta? Sì, sì, è contenta, sì. Da lunedì i ristoranti e bar, che in questi mesi durissimi di pandemia hanno lavorato solo con l'asporto, potranno riaprire a pranzo e a cena, ma solo con i tavoli all'aperto. Chi non ha gli spazi esterni dovrà restare ancora chiuso fino al primo giugno, quando sarà possibile mangiare, ma solo a pranzo. Baristi è il ristoratore al lavoro per allestire gli spazi all'aperto, anche se in una città come Campobasto, dove il clima non è certo dei migliori, la situazione è più complicata, ma vale la pena attrezzarsi e provare a ripartire. Fortunatamente siamo pronti, noi ci siamo attrezzati bene, abbiamo tutta la normativa di legge, sperando che sia tutto ben sistemato. Noi siamo pronti, aspettiamo i clienti come stiamo facendo ancora attualmente da asporto. Noi proviamo sempre ad andare avanti e vogliamo sempre che i nostri clienti affezionati tornino e giustamente rispettano sia da parte nostra che da parte loro tutte le normative di legge che sono in vigore. Senta, come sono stati questi mesi per voi? Purtroppo sono stati abbastanza duri, perché poi da ottobre, cioè fine ottobre, fino ancora attualmente, siamo ancora un po' non messi bene come lavoro, perché poi non si capisce bene se si lavora bene, se si lavora male per tutti, è un guaio. Senta, poi però il clima di Campobasso non è che è dei migliori, magari a pranzo fuori si può anche stare, ma cena anche con una giornata come oggi, insomma non è il massimo, bisognerà cenare col cappotto? Purtroppo questo è il problema di Campobasso, infatti dobbiamo aspettare sempre una giornata migliore, almeno per la sera per i clienti, almeno col giubbino, per forza, perché purtroppo le disposizioni sono queste, non possiamo fare altrimenti. E poi c'è il coprifuoco, insomma uno per le 22, quanti turni riuscite a fare la sera? Purtroppo è capace solo uno, perché poi giustamente chi lavora fino a tardi non è capace, non riesce neanche a venire al locale, infatti alle 10 il coprifuoco per noi sarà un problema, infatti non lo so come sistemare questa questione purtroppo. L'importante è insomma ripartire, anche se insomma così a ranghi ridotti un timido segnale di ripresa. Sì, infatti noi, vabbè, noi fortunatamente nella zona industriale almeno abbiamo i lavoratori che a pranzo hanno sempre lavorato, almeno la maggior parte hanno lavorato, e già come asporto infatti alla fine abbiamo l'abricchiato. Riaprono anche le sale cinematografiche, questo è il multisala maestoso di Campobasso, ancora desolatamente chiuso all'interno i segni indiretti della pandemia. La speranza è che presto si possa tornare a sedere in sala e immergersi in quelle atmosfere che solo il film sul grande schermo può creare. E d'altra parte sognare e distrarsi aiuta ad allontanare, seppure per qualche ora, le nubi che si addensano sulla nostra quotidianità. E adesso nel dettaglio vediamo cosa prevede la zona gialla per il Molise a partire da lunedì. Da lunedì 26 aprile il Molise torna zona gialla. Non è e non può essere un liberi tutti, come sottolineato da più parti, e il senso di responsabilità deve prevalere in ognuno di noi. L'indice RT del Molise è ancora il più alto d'Italia, a 1,49, e ci sono ancora focolai. Il monitoraggio considera anche l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti, che da noi è 87, tra le più basse. Ma cosa prevede la zona gialla? Vediamo nel dettaglio le principali prescrizioni. Tra le regioni in giallo sono consentiti gli spostamenti dei cittadini fino alle 22. Dopo questo orario c'è coprifuoco e sarà necessario munirsi di autocertificazione. Spostamenti verso le regioni in zona arancione o rossa solo per comprovati motivi di necessità. In giallo si può fare visita ad amici e parenti, spostandosi non più di quattro persone esclusi minorenni una volta al giorno dalle 5 alle 22. Per la scuola didattica in presenza al 100% per le primarie e secondarie di primo grado, mentre per le scuole superiori la didattica in presenza comprenderà dal 70 al 100% delle ore di lezione, ma decisioni locali sono possibili in base all'andamento della pandemia. In giallo riaprono i ristoranti a pranzo e a cena, ma solo all'aperto. Al chiuso, ma solo a pranzo, a partire dal primo giugno. Resta invece sempre consentito il servizio di asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio. Riaprono musei, cinema e teatri e sale da concerto, con regole stringenti. Previsto un massimo di mille persone all'aperto e 500 negli spazi chiusi e bisognerà indossare la mascherina. Centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi dunque per i weekend, ma rimarranno aperti negozi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole all'interno. Consentita all'aperto qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Le piscine all'aperto possono riaprire dal 15 maggio e dal primo giugno le palestre. Secondo il consigliere regionale del Partito Democratico, Vittorino Facciolla, la riduzione del numero degli anestesisti al Santimotio di Termoli inizia a generare i primi effetti delle terie, cioè che, spiega, dalla prossima settimana si bloccheranno completamente tutti gli interventi chirurgici ordinari e quelli programmati e saranno garantite solo le urgenze. Ci giunge notizia inoltre, continua testualmente Facciolla, che sono state ridotte del 50% le forniture, quindi le dossi di vaccini disponibili nel Basso Molise, a partire dalla settimana scorsa non si vaccina più a Castelmauro e neanche a Larino e a Montenero, aggiunge l'esponente Dem. È evidente, conclude Facciolla, che per Toma e Florenzano il Basso Molise deve restare fanalino di coda della regione di una sanità già fortemente compromessa. Ripresa regolarmente l'attività del punto vaccinazioni di Venafro al Santissimo Rosario, c'era stato un momento di incertezza sul suo funzionamento, ma per motivi logistici, ma l'allarme è rientrato, come conferma il sindaco Ricci. Ci sentiamo Enzo Di Gaetano. Riprende regolarmente a funzionare il punto vaccini all'ospedale Santissimo Rosario di Venafro. C'erano stati dei problemi legati alla disponibilità di spazi, personale anche vaccini, ma tutto sembra essere superato, come annuncia il sindaco Alfredo Ricci. Noi abbiamo avuto nel punto vaccinale del Santissimo Rosario un riferimento importante fin dall'inizio. Devo dire che è stato fatto un lavoro egregio negli scorsi mesi grazie all'impegno dell'ASREM, del Dipartimento Prevenzione, grazie all'impegno anche operativo del team di Gianni Vaccone che è sul Santissimo Rosario. Nei giorni scorsi si stava paventando qualche criticità, ma quando si parla e ci si confronta assiduamente con le istituzioni si trovano le soluzioni. Abbiamo ragionato insieme ad ASREM e abbiamo individuato la soluzione, rilanciando anche gli aspetti logistici ed organizzativi di cui si è sempre occupato il team di Gianni Vaccone, ma soprattutto un dialogo costante con il Dipartimento Prevenzione ASREM. Si punta a chiudere in questi giorni i richiami degli ultraottantenni e i fragili, sia per quel che riguarda i vaccini ambulatoriali, quindi presso il Santissimo Rosario, sia per quel che riguarda i vaccini a domicilio. Ovviamente noi come Comune abbiamo sempre dato la disponibilità anche se servono locali comunali presso cui ampliare il centro vaccinale che già c'è al Santissimo Rosario, ma appunto ampliare quello che è un centro importante. Non deve essere un'alternativa perché per noi il Santissimo Rosario è sempre un riferimento essenziale in ogni momento. Credo che ancora una volta si stia facendo un lavoro importante su questo fronte. È ovvio che è un tassello perché poi quando parliamo di Santissimo Rosario ci sono tanti crediti che il nostro territorio continua ad avere e che probabilmente devono essere riscontrati quanto prima dal momento che al momento siamo ancora in attesa, forse da troppo tempo. Il senatore molisano Fabrizio Ortis ha sottoscritto insieme ad altri la mozione di sfiducia al Ministro della Salute Roberto Speranza, contestando il suo operato. Ortis punta il dito contro il Ministro, tra l'altro anche per quella che definisce la gravissima situazione sanitaria in Molise durante l'emergenza Covid con la mortalità aumentata di oltre 1700% tra la prima e seconda ondata. Nonostante questo, continua Ortis, ha inviato nuovi commissari esterni con enorme ritardo senza fare null'altro per mesi e mesi, ignorando persino l'appello a intervenire. La catena di inadempienze, opacità, omissioni incomprensibili, in azioni in continuità con i livelli apicali e amministrativi del Ministero della Salute è fin troppo evidente, spiega il senatore, i comportamenti del ministro insomma appaiono incompatibili con il ruolo ricoperto, conclude Fabrizio Ortis. Puntata ricca di spunti politici e di attualità, quella di ingresso libero in onda ieri sera dalla redazione di Isernia. Aldo Patriciello a Telemolisi ha chiarito la sua proposta di riunificazione con l'Abruzzo e ha parlato anche di una sanità che si avvia ad essere riformata. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Così come il Molise non ha futuro, ne sembra convinto l'eurodeputato Aldo Patriciello che sostanzialmente dice siamo troppo piccoli per sopravvivere da soli quindi anticipiamo quello che accadrà inevitabilmente di fronte ad un'ipotesi spezzatino con la nostra regione divisa tra Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia frutto di scelte centrali perché non partire prima con una richiesta di riunificazione con l'Abruzzo? Mettiamoci attorno al tavolo ragioniamo tra tutti i partiti tra le istituzioni, tra delegazioni parlamentari cosa fare? Allacciamo subito un rapporto con l'Abruzzo dobbiamo essere noi pionieri di questo percorso non aspettiamo che a livello centrale dove già si comincia a ridiscutere delle macroarie, degli accorpamenti di un ridisegnamento della struttura della burocrazia cioè il tema del riassetto burocratico istituzionale è un tema fondamentale dopo Covid lo Stato noi avremo una massa di debiti che impongono di ridisegnare la struttura dello Stato dal basso verso l'alto cosa significa? Sarà naturale draghi o non draghi sarà naturale che devono ridisegnare accorpare per tagliare non per una logica di tagli lineari per efficientare ridurre altrimenti il nostro paese non ha la possibilità di restituire i soldi in prestito all'Europa non solo ma non ha la possibilità di rientrare con i debiti con la massa di debiti dove il nostro deficit sta salendo a dismisura giustificato dalla pandemia ma dopo la pandemia c'è bisogno di ridisegnare allora noi questo è il mio modesto parere dobbiamo essere pronti a intercettare questo cambiamento e dire la nostra proposta è quella di un Molise che torna alle origini con l'Abruzzo ridisegniamo un equilibrio con l'Abruzzo per non fare i figli poveri in questa aggregazione avere il nostro ruolo e cercare di dare una prospettiva al mondo delle aziende allo sviluppo economico ai giovani per poter guardare una regione più ampia disegnata meglio che possa guardare al futuro altro argomento d'attualità toccato da Aldo Patriciello quello della sanità e anche qui si prevede un intervento centrale teso a riformare la gestione degli ospedali pubblici che potrebbero venire sottratti al controllo delle regioni questa iniziativa di accorpare alcune funzioni della sanità a livello centrale non è una mia idea io ho avuto l'umiltà di copiarla perché l'ho percepita in molti incontri romani a tutti i livelli in molti dibattiti nazionali ma lo stesso Ministro Speranza in molti dibattiti comincia a intravedere l'ipotesi di voler centralizzare un pezzo della sanità soprattutto quello dei policlinici la sanità diciamo quella più importante quella di eccellenza la sanità degli ospedali la sanità la sanità diciamo delle grosse strutture a livello centrale e lasciare al territorio ossia alle regioni la sanità territoriale l'ex articolo 26 il domiciliare la farmaceutica il medico di base cioè la sanità del territorio che deve essere potenziata perché Covid ha scoperchiato in Italia una criticità proprio sulla mancanza di un rapporto tra ospedaliere e territorio gli agenti della squadra volante sono intervenuti presso l'ex stadio Romagnoli di Campobasso dove era stata segnalata una violenta lite tra giovani alcuni ragazzi discutevano animatamente e si strattonavano l'immediato intervento della polizia pur non senza difficoltà riportato alla calma i giovani uno di loro però è riuscito a scappare per non farsi identificare un altro visti i poliziotti si è disfatto di un coltello a serramanico con una lama di 20 centimetri poi sequestrata lui è stato segnalato è stato necessario anche l'intervento di un'autoambulanza perché uno dei ragazzi nella colluttazione ha riportato lesioni che si è scoperto poi erano state causate dal minorenne che era scappato e poi identificato dal raddoppio ferroviario alla situazione del Santimoteo consiglio comunale Lampo a Termoli tra mozioni e interpellanze sentiamo Andrea Nasillo a Termoli un consiglio comunale Lampo tre quarti d'ora di discussione dal raddoppio ferroviario alla situazione sanitaria ma non solo è stata rinviata in commissione su proposta del consigliere di Forza Italia Francesco Rinaldi la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle i pentastellati chiedevano di piantare un albero per ogni termolese vittima del covid argomento che secondo la maggioranza merita un approfondimento come evidenziato dal consigliere Costanzo Pinti tra le iniziative pensate su cui è in atto una valutazione c'è anche la realizzazione di un parco della memoria dedicato ai termolesi uccisi dal virus il Movimento 5 Stelle vuole vederci chiaro sul progetto del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina con un'interpellanza ha chiesto chiaramente al sindaco vuole sapere quali e quanti benefici avrà questo progetto cosa è stato sottoscritto tra RFI il comune di Termoli e altri soggetti e se sono intervenute ulteriori intese in riferimento all'interpellanza ad oggi ha detto il sindaco Francesco Roberti non ci sono elementi nuovi se non quello che noi come comune abbiamo fatto le giuste osservazioni contrarie a questo progetto di raddoppio e dato che è stato fatto un commissariamento e che questo progetto ancora non ottiene nessuna autorizzazione non possiamo che aggiornarci quando ci saranno elementi utili la prima firmataria Daniela De Caro ha replicato di non essere soddisfatta né nel merito né nel contenuto della risposta del sindaco Roberti nessuna risposta nessun chiarimento con questo atteggiamento sostengono i consiglieri 5 Stelle sono penalizzati i cittadini che non vengono messi nella condizione di sapere come stanno le cose non sarà il silenzio a fermarci per quanto riguarda l'ultimo punto in discussione in merito alla riorganizzazione dell'ospedale Santimotio in particolare alla vicenda dell'anestesista spostato da Termoli al Cardarelli di Campobasso il sindaco ha risposto all'interpellanza ricordando di non avere poteri in materia sanitaria e che a breve anche se andavano fatti prima si conosceranno gli esiti dei concorsi per nuovi medici evidenziando in ogni caso la necessità di potenziare l'ospedale con l'integrazione di nuovo personale alla consigliera Marcella Stumpo la risposta non è bastata lunedì al via la sessione sul bilancio in consiglio regionale il Movimento 5 Stelle mette l'accento sui debiti e parla di circa 500 milioni di euro per ora incalzano i pentastellati perché ci sono ancora debiti che devono venire a galla come i 7 milioni dovuti a Molise Dati o peggio i 40 milioni di sanzioni e interessi sui debiti previdenziali delle disciolte ASL parlano poi di mancanza di trasparenza amministrativa anche nei confronti degli organi preposti alla vigilanza sulla regolarità contabile due nuove ricerche dell'istituto Neuromed di Pozzilli hanno analizzato come sono cambiate le abitudini a tavola degli italiani durante la primavera del 2020 il momento più critico della pandemia ma non solo poi alimentazione più sana durante il lockdown ma non per tutti sentiamo Barbara Fino l'essere rimasto in casa durante il periodo di lockdown più stretto quello della primavera 2020 ha visto un cambiamento positivo nelle abitudini alimentari degli italiani anche se in alcuni casi soprattutto tra i giovani la permanenza forzata a casa ha incoraggiato consumi meno salutari questo quadro emerge da due ricerche condotte dal dipartimento di epidemiologia e prevenzione dell'istituto di ricerca neuromed di Pozzilli nell'ambito di due progetti che hanno esaminato gli effetti che la pandemia al di là della patologia indotta dal coronavirus ha avuto sulla vita e sulla salute di circa 1500 partecipanti allo studio Molisani ai quali si sono aggiunti 2000 soggetti reclutati in un'indagine online lanciata a fine maggio 2020 in tutta Italia analizzando le abitudini a tavola si è infatti riscontrato che quasi il 40% delle persone ha avuto un miglioramento della propria alimentazione in particolare c'è stato un maggiore ricorso a cibi caratteristici della dieta mediterranea soprattutto per le fasce di età più avanzata un'altra caratteristica interessante è che le persone che hanno migliorato l'alimentazione hanno anche svolto più attività fisica e hanno perso peso discorso diverso per i giovani che si sono lasciati andare a un consumo maggiore di snack cibi pronti dolciumi o bevande zuccherate notiamo che il consumo di cibi ultraprocessati nella popolazione è diminuito soprattutto tra le persone di una certa età quindi nei giovani resta comunque abbastanza presente abbastanza diffusa l'abitudine a consumare questo tipo di alimenti che ricordiamo includono snack oppure cibi precotti oppure bevande gassate inoltre abbiamo visto per esempio che le persone che risiedevano in aree rurali del territorio italiano hanno aumentato di più l'adesione alla dieta mediterranea e hanno diminuito il consumo di cibo ultraprocessato le lunghe ore passate a casa la mancanza di tante attività hanno avuto inevitabili ripercussioni sulle scelte alimentari alcuni hanno visto la situazione come un'occasione per stare attenti alla propria salute e anche per riscoprire maggiormente i cibi della nostra tradizione un fattore favorito certamente dal tempo passato a casa progetto south beach la direzione del pd molise in una nota dichiara la sua contrarietà al progetto non è questione di no al progetto ha dichiarato Antonio Tomassone responsabile ambiente dei dem molisani semplicemente non è molise è fantascienza pura la regione ha continuato impieghi risorse tempo nello sviluppo turistico integrato valorizzando l'ambiente si parta dal cisturismo e dalla formale istituzione del parco nazionale del matese presentata in comune a termoli l'iniziativa adotta una casetta per i libri un progetto che promuove l'importanza della lettura e che si basa sulle idee della condivisione e della gratuità sentiamo Andrea Nasillo uno scambio libero e gratuito di libri con un tocco di romanticismo perché il libro ha un'anima vive in America è nato nel 2009 e il book crossing è arrivato anche in Italia oggi Termoli a tutti gli effetti rientra nella mappa della cultura leggere è importante tre le casette del libro installate in tre punti della città a Colle Macchiuzzo a Difesa Grande e a Porticone il progetto è stato sostenuto dal comune ma ideato e finanziato dall'associazione Il Mosaico presieduta dal consigliere comunale Enrico Miele insieme a lui in sala consigliare c'erano l'assessore alla cultura Michele Barile e i rappresentanti delle tre realtà che hanno adottato le casette l'azienda di soggiorno la Lilt e la Casa dei Libri è un'iniziativa ad ampio spettro patrocinata dall'amministrazione comunale e promossa dall'associazione Il Mosaico che intende diffondere cultura amore per i libri e concetti che in questa fase pandemica purtroppo sono passati in secondo piano che sono quelli comunque della gratuità della condivisione dello stare insieme e far viaggiare dei libri che amiamo lungo la città abbiamo con l'amministrazione comunale installato tre casette in tre quartieri periferici di Termoli a Difesa Grande a Porticone e a Colle Macchiuzzo queste casette sono di libero accesso si basano su un concetto molto semplice porta un libro e prendi un libro e libri ovviamente che devono essere belli nuovi il concetto non è svuotare la cantina e portare i libri impolverati il concetto è portare un libro che piace affinché qualcuno possa leggerlo possa apprezzarlo magari lasciare anche una dedica e farlo così dagli nuova vita si pensa già a ulteriori casette per la città chiunque potrà prendere un libro magari portarne uno tante già le donazioni di testi l'iniziativa si inserisce tra l'altro nell'ambito del progetto più ampio Termoli città che legge un'iniziativa culturale promossa dall'associazione Il Mosaico un'associazione che ha una lunga storia sul nostro territorio tante sono state le donazioni e le iniziative promosse a favore dei cittadini termolesi alla quale si aggiunge questa quella delle casette per i libri che è iniziativa che si sposa è perfettamente in linea con quelli che sono gli accordi stipulati presi nel patto per la lettura e patto per la lettura di cui l'associazione Il Mosaico è stata anche sottoscrittrice quindi li ringraziamo naturalmente per questa lodevole iniziativa che abbiamo accolto di buon grado e prima di chiudere consentiteci di formulare i nostri più cari auguri all'amica Anna Frate che ha raggiunto il traguardo della laurea in scienze e tecnologie alimentari la tesi discussa all'università del Molise con il relatore Pasquale Trematerra aveva ad oggetto il coleottero granarius e i semi di leguminose e paste alimentari ad Anna e alla famiglia Frate gli auguri di tutta Telemolise termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e arrivederci